questo è il primo di una serie di tutorial nei quali per gradi di complessità successivi cercherò di spiegare passo passo come utilizzare i dispositivi raspberry anche ai neofiti o tutti coloro che magari per curiosità o chi per necessità di lavoro intenda familiarizzare con questi microcomputer ormai di ampio utilizzo nello specifico in questa sessione vedremo come configurare una raspberry in modalità headless ovvero una modalità che ci consenterà di installare il sistema operativo configurarlo ed utilizzarlo senza necessità di connettere la raspberry monitor mouse tastiero o quant'altro ma semplicemente alimentando la raspberry e basta l'unico link tra noi e lei sarà infatti la rete wifi sarà necessario dotarci oltre ovviamente a cadere la raspberry io per esempio uso una raspberry pi v0 ma potete tranquillamente usare una pi 2 una pi 3 eccetera di una scheda sd di almeno 8 giga come prima operazione richiamoci sul sito ufficiale della raspberry per quanto riguarda la raspberry che è raspberrypi.org e da qui andiamo a scaricare l'immagine del sistema operativo raspbian buster io personalmente sceglierei l'opzione with desktop and recommended software in quanto è una versione completa e che contiene un certo numero di applicativi che sicuramente possono tornarci utili l'intero download occupa circa 2 giga 3 e in formato zip quindi lo scaricheremo e quindi procederemo poi la sua coppia sulla sd un altro software del quale avremo bisogno è software per trasferire l'immagine sulla sd per questo utilizzeremo win32 di ski major è un programma scaricabile da sourceforge è un programma gratuito soprattutto funziona bene per quello che deve fare quindi direi che nel contempo che stiamo scaricando l'immagine di raspbian possiamo tranquillamente procedere al download e dell'installazione di win32 di ski major da sourceforge è un programma piccolino non occupa molto spazio fa bene il suo lavoro e quindi appunto lo installiamo ed attendiamo il termine dell'installazione della download dell'immagine un altro software che ci occorrerà anzi sono due uno è questo poi ci sarà anche un altro è il software putti putti è un emulatore di terminale che lavora in protocollo di sicurezza ssh e che ci occorrerà per la prima impostazione del nostro rasbian non appena l'avremo attivato poi sull'sd è un software che è originariamente nato sotto sistemi windows ed è stato poi portato anche sotto linux ed è un software molto utilizzato per la connessione da remoto a sistemi informatici il software che installeremo dopo putti sarà poi il vnc viewer che ci permetterà poi di gestire in maniera remota molto comodamente la nostra raspberry procediamo intanto all'installazione di vnc viewer per fare questo accediamo al sito www.realvnc.com andiamo su products da products andiamo su vnc connect quindi su download da download troviamo vnc viewer che scarichiamo personalmente io utilizzo la versione stand alone eseguibile vnc viewer è un software che ci permetterà di accedere alla nostra raspberry e gestirla totalmente in modo remoto la raspberry pi in raspbian infatti contiene già una versione di vnc server gratuita per usi non commerciali ora che abbiamo terminato di scaricare l'immagine di raspbian buster full la estraiamo e otterremo quindi un file image che è un file con estensione .img che sarà quello che poi andrà scritto sulla sd quindi innanzitutto inseriamo la nostra sd apriamo programma win32 risk image carichiamo ovviamente intanto l'immagine img nel apposito link carichiamo la sd sd nel mio caso diventa la j nel vostro sarà quello che sarà puntiamo l'immagine img ora quello che ci resta da fare semplicemente e scrivere e premere il pulsante scrivi che darà conferma quindi attenzione poi a quale disco usb scrivi scrivi scrivete perché chiaramente se vi sbagliate vi sovrascriverà un disco che non c'entra nulla e terminata l'operazione abbiamo intanto replicato qui nel sistema operativo sulla nostra scheda sd dovremmo fare a questo punto creare fare alcune modifiche perché per impostare l'SSH sulla nostra raspberry dovremmo nella root creare un file che si chiamerà semplicemente SSH quindi utilizziamo un nuovo file creiamo il file SSH txt giusto per poterlo modificare con notepad io ho l'abitudine di metterci dentro un carattere 1 non è importante ma giusto per non averlo a 0 dopodichè modifichiamo l'estensione del file cioè togliamo l'estensione perché deve chiamarsi solamente SSH senza estensione il file una volta fatto questo il sistema operativo quando parte trova SSH ed abilita l'SSH la cosa da fare dopo è creare il file che permetterà la connessione alla rete wifi questo file si chiama vpasupplicant.conf quindi creiamo un file che chiama vpasupplicant.conf lo modifichiamo, lo editiamo, in questo caso io uso il notepad plus e andiamo a scrivere queste poche righe country uguale it nel nostro caso che identifica la regione di destinazione control interface, dobbiamo specificare questo percorso specifico che è control interface, dir, var esattamente come vedete scrivere qua vpasupplicant, basta dopodichè andiamo ok, graph uguale netdev dopo di che andiamo a descrivere la nostra wifi quindi andremo a scrivere update config uguale 1 network uguale apriamo i bracket e andiamo a scrivere il nome della nostra rete il nome della rete alla quale si dovrà connettere nel mio caso metto la mia rete voi metterete la vostra la password della rete wifi e poi il tipo di criptografia ecco scan ssd anche lo mettiamo non è fondamentale però io generalmente lo inserisco e poi il tipo di criptografia che utilizziamo nel mio caso è una vpask perfetto diciamo che fatto questo abbiamo terminato possiamo salvare il nostro file gli diamo una controllata ok benissimo lo salviamo estraiamo a questo punto la nostra sd e attendiamo che riavviamo la nostra raspberry ed attendiamo che la stessa si allacci alla nostra rete wifi chiaramente ora abbiamo preconfigurato la rete quindi l'avvio si collegherà alla nostra rete wifi e noi dovremo in qualche maniera identificare quale è l'ip alla quale la raspberry si è connesso per fare ciò utilizzeremo il comando ARP ARP è un livello di protocollo sta per address resolution protocol in parole semplici diciamo così abbina ad un indirizzo emec l'indirizzo il relativo indirizzo ip il comando che vedremo poi più dettagliatamente è ARP meno a redirect find b827b questo usiamo questo comando per quale motivo perché b827b sono i primi tre byte che identificano l'imec delle raspberry quindi il comando find ci permetterà di selezionare solo quell'imec e quindi leggere il relativo indirizzo ip come possiamo vedere ora 192 168 1 104 l'indirizzo della nostra raspberry la quale tra l'altro risponde regolarmente al ping fatto questo possiamo aprire il nostro putti ed andare ad inserire nel campo ip address host dopo aver verificato che ssh sia selezionato l'indirizzo che abbiamo rilevato tramite ARP 192 168 1 104 fatto questo clicchiamo su open e verrà avviata ci avverte che il diciamo così il certificato non è un certificato ufficiale ma comunque noi lo confermiamo login pi password raspberry è la password di default ed ecco che siamo entrati tramite putti in modalità ssh nella nostra raspberry il dir ci fa vedere le directory della zona user quello che ora faremo sarà configurare l'accesso con il vnc quindi attivare il vnc server presente sulla raspberry comando raspi config ovviamente sudo per avere le credenziali amministrative dopodiché ci richiamo nell'interfacing option e da interfacing option andiamo a selezionare la terza opzione p3 vnc enable disable graphic remote access to your pi using real vnc selezioniamo con yes per abilitarlo attendiamo un attimo al termine ecco fatto vnc server is enabled possiamo a questo punto abbandonare diciamo putti con exit noi chiudiamo la connessione attiva e andiamo ad aprire il nostro client vnc nel client vnc andiamo a creare una nuova connessione file new connection diamo l'indirizzo ip della nostra raspberry 192 168 1 104 un nome che identifichi la connessione prima ancora però devo fare una cosa bisogna riavviare la raspberry perché altrimenti lei non prende la configurazione di non attiva in questo caso server vnc quindi riaccedo 192 168 1 104 semplicemente poi pi raspberry e darò un comando reboot sempre anteponendo sudo come amministratore reboot ecco intanto così la nostra raspberry si sta riavviando noi procediamo nel dare un nome alla connessione io adesso la chiamerò come una connessione di test ecco fatto confermiamo e proviamo a lanciare la nostra ecco intanto controlliamo che la raspberry sia già avviata in questo caso dovrebbe rispondere al ping diamo un comando di ping con meno t così lo ripete in continuazione avremo chiaramente delle richieste scadute comunque delle informazioni di errore fino a quando effettivamente la raspberry non sarà avviata e quindi la sua scheda di rete sarà attiva e come in questo caso ora sta rispondendo regolarmente ai ping ecco che a questo punto possiamo accedere tramite vnc al server presente sulla nostra raspberry quindi chiuderemo l'interfaccia il comando prompt apriamo la nostra connessione ed ecco che vnc serve ok lui ha rilevato che c'è un certificato presente la porta utilizzata è la 5900 la stessa username e password cioè pi e raspberry ed ecco che ho acceduto la mia raspberry pi in questo caso e questa è la pagina di avvio diciamo del raspberry appena installato ci avverte che è abilitata l'SSH con le credenziali di default quindi c'è un problema di sicurezza io ora sostanzialmente vado a configurare il linguaggio insomma il country italian le configurazioni di base ma sostanzialmente questo è quello che ci si aspettava dal lavoro che abbiamo fatto accediamo regolarmente alla nostra raspberry tramite vnc l'impostazione delle setting iniziali può richiedere un po' di tempo ma comunque il primo step cambiate poi password ovviamente per non avere una password così vulnerabile ma il primo step di questo tutorial è stato eseguito nel prossimo tutorial vedremo come fare ad installare un sistema di riconoscimento vocale basato su pocket sphinx che non richiede una connessione di internet per funzionare per funzionare per funzionare per funzionare per funzionare